perché negli anni precedenti la musica Arbrecht ha sempre cercato di cambiare un po' le cose la cooperativa Arbrecht di San Dementrio negli anni 80 prendeva Rini Missi e Mevelli e lo faceva in questo modo noi l'abbiamo ripresa, l'abbiamo rifatta in un modo un pochettino più rocchittale per le nostre orecchie e il nostro viaggio finisce, è stata una splendida serata questa è Rini Missi e Mevelli Rini Missi e Mevelli Rini Missi e Mevelli Non è così, non è così, non è così. Non è così, non è così, non è così. 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 Non è così, non è così.